Benvenuti amici in questa puntata del Pistone Podcast, il primo podcast italiano che parla solo ed esclusivamente di motori e mobilità. Io sono Riccardo, per gli amici rosso mi sentirete chiamare rosso. Io sono Edo, io sono Ganzo. Cosa facciamo qui? Cosa facciamo qui ragazzi? Come glielo spieghiamo? Fatti una domanda. Siamo qui riuniti. Intanto chi siamo noi? Cosa facciamo nella vita? Da dove veniamo? Da dove veniamo? Siamo tre studenti universitari, io faccio ingegneria del veicolo a Modena. Io studio ingegneria meccanica sempre a Modena. Io mi sono trasferito a Rimini, faccio chimica dell'ambiente e siamo tre pazzi sgravati che amano i motori. Giustamente veniamo dalla Motor Valley. Penso si sia sentito dall'accento. Sì, infatti questo penso si sia proprio sentito. È abbastanza chiaro, sì. In questo podcast noi tratteremo di auto, di moto, dibattiti, non tanto ultime uscite e prime uscite. Può darsi che scappino anche delle puntate inerenti a Formula 1, MotoGP a fine stagione e parleremo di tutto ciò che ci pare e piace per quanto riguarda la mobilità auto e moto. E anche della sostenibilità riguardo appunto alla mobilità. Sostenibilità, giustamente. Ovviamente da un chimico ambientale non ci si può aspettare che altro. E lo ci tiene, si sa. Sì, io ci tengo molto alla sostenibilità. Parliamo di monopattine elettrici anche, sicuramente. Intanto in rosso parliamo di V8 6200. V8 io, se sei incerto, tieni aperto. Ovviamente. qualsiasi cosa che bruci benzina. E basta. Direi che come introduzione ci siamo fatti conoscere. Forse un po' confusionaria e un po' matta, ma comunque lo stile è questo. Siamo così. Siamo poi così. Azzeccata i personaggi. Quindi l'idea è di condividere una nostra chiacchiera solita. Sì, infatti, perché siamo poi tre amici al bar che hanno deciso di registrarsi dopo una pinta di birra in una discussione solita da sabato sera che facciamo di solito da malati di motori. E di mente. E speriamo di trovare qualcun altro malato come noi. Giustamente. Il podcast viene fatto per cercare e reclutare altri malati di motori come noi. Esatto. Bene. Io direi che come introduzione l'abbiamo fatta. Benissimo. Parlare abbiamo parlato. Intelligenti non siamo passati sicuramente. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla primissima puntata che... vogliamo già dare uno spoiler? Ma diamo uno spoiler, dai. Diamo uno spoiler. Spoiler veloce? Tac. Passaggio veloce. Allora, la prima puntata parlerà dei super SUV e dei SUV molto potenti e lusuriosi. I top di gamma delle varie gambe. Ti tengono l'ambiente comunque. Giusto per essere sostenibili. Quelle robe che ci vogliono almeno tre parcheggi in centro a Milano per fermarle. Quindi... All'insegna della sostenibilità insomma. Benissimo. Benissimo. All'insegna della sostenibilità. Il dibattito è molto acceso, aperto e se vogliamo condividerlo con voi. Specialmente tra i puristi aperti. Con queste premesse direi che siamo perfetti. Siamo a cavallo. E vi aspettiamo alla prima puntata. Un saluto. Alla prossima. Arrivederci.